Il diamante è una gemma di straordinaria bellezza e valore, facilmente valutabile grazie a tre parametri internazionalmente definiti, il peso, espresso in carati o frazioni di essi, il colore e la purezza. La valutazione di un diamante risulta piuttosto semplice quando il gioiello è accompagnato da un certificato autorevole, il quale riporta i tre parametri sopracitati. Grazie a questo documento, nel corso degli anni si è riusciti a stabilire con precisione il prezzo di queste pietre preziose. Tuttavia, se i diamanti sono già montati su un gioiello, la valutazione diventa un po' più complicata, specialmente se manca il certificato di autenticità. In questo caso, il perito si avvale di strumenti specifici come il calibro, misurando il diametro della pietra per stimarne il peso. L'analisi con una lente a 10 ingrandimenti permette di intuire la purezza, ma il montaggio nel gioiello potrebbe ostacolare una valutazione più precisa del colore. Nel caso in cui si desideri una valutazione accurata di un diamante montato, è consigliabile rivolgersi a un istituto gemmologico autorevole, magari presso Milano, dove sarà possibile smontare la gemma e sottoporla ad analisi specializzate. Se avete bisogno di ulteriori consigli in merito, non esitate a contattarmi o a venire nel mio negozio, sarò lieto di poter approfondire l'argomento insieme a voi.